Rapidamente, bisogna intervenire rapidamente. Lo ha ripetuto tre volte Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ammettendo che mancano meno di tre mesi per salvare l'euro. Il direttore dell'FMI, in un'intervista a Christine Amanpour, celebre giornalista della CNN, ha risposto con queste parole a George Soros, il finanziario americano di origine ungherese per il quale le autorità europee hanno margini di tre mesi per correggere i propri errori e invertire l'attuale inerzia. Dopo un'altra breve pausa, il numero uno dell'FMI ha chiarito. Non sto fissando un termine ultimo entro il quale tutta la situazione si debba sbrogliare. La nascita dell'Eurozona ha richiesto molto tempo ed essendo ancora in costruzione deve essere costantemente migliorata, corretta e rafforzata. I mercati ritengono che stia avvenendo troppo lentamente e questo è ovviamente il messaggio che mandano. Nell'intervista, Lagarde non ha voluto fare previsioni su una possibile uscita della Grecia dell'Eurozona. Sarà una questione di determinazione politica, ha detto.